Ben trovati al TG Web. La proposta di Giacinto Mariani di una class action contro l'Andrangheta sembra fare passi avanti. Mariani infatti in qualità di Presidente dei Sindaci dell'AS Monza Brianza, insieme al Prefetto e al Presidente della Provincia, sta lavorando a un protocollo di intesa sulla sicurezza nei cantieri. Obiettivo? Mettere in campo strumenti che possano contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici. Una buona notizia invece arriva dall'economia. La Regione Lombardia ha sbloccato risorse per 70 milioni di euro per i comuni. Soldi che i comuni potranno utilizzare per pagare le imprese e che potranno servire per far ripartire il sistema. Ma in questo periodo l'economia è come le montagne russe e quindi ha una notizia positiva, purtroppo ne segue una negativa. Sono infatti in aumento le imprese italiane alle prese con i fallimenti. Parliamo di 120 mila imprese in tutta Italia. Ci fermiamo qui, titoli e poi il giornale. ASL, Prefettura e Provincia per la salute dei lavoratori e contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri. La Regione sblocca i fondi ai comuni lombardi. A Serenio una boccata d'ossigeno di 210 mila euro. Sono oltre 120 mila le imprese italiane in difficoltà. Imbrianza 1200 imprese alle prese con fallimenti e liquidazioni. 27 mila euro per sostenere quattro progetti internazionali in India, Ucraina, Bolivia e Africa. Bentrovati al TG Web. Bentrovati. Un protocollo per la sicurezza nei cantieri e per combattere le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici. È l'obiettivo di Jacinto Mariani, presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL di Monza e Brianza, che con il prefetto Renato Saccone e con il presidente della provincia Dario Allevi, sta lavorando ad un accordo che deve sottoporre a tutti i 55 sindaci brianzoli. Trasparenza negli appalti. Osservatorio online delle aziende e dei cantieri, che consentirebbe a tutte le forze dell'ordine di sapere quanti e quali cantieri sono stati controllati. personale della polizia locale formato ad hoc, controllo dei subappalti e tracciabilità dei pagamenti. Questi i principali contenuti del protocollo d'intesa. Elemento strategico e asse portante del documento è la creazione di una stazione unica appaltante che dovrebbe gestire per conto di singoli comuni tutta la procedura di gara d'appalto. Questa gestione accentrata garantirebbe più trasparenza ed efficienza, con l'obiettivo di evitare le infiltrazioni mafiose e la costituzione di centri di potere. I tecnici della provincia, dell'ASL e della prefettura stanno limando l'accordo che dopo Natale sarà sottoposto a tutti i sindaci brianzoli. 210.000 euro sbloccati grazie al patto di stabilità territoriale. E' questa la cifra che la regione Lombardia ha destinato a Seregno e che consentirà al Comune di abbassare per il 2011 l'obiettivo fissato dal patto di stabilità. Da un saldo positivo tra entrate e uscite di circa 1.700.000 euro a poco più di 1.500.000 di euro. Il Pirellone ha messo a disposizione degli enti locali lombardi 70 milioni di euro, di cui 3 milioni per la brianza, parte cioè della propria capacità di spesa. Soldi che i Comuni non potrebbero utilizzare per via dell'applicazione delle norme nazionali sulla finanza pubblica. Un bonus quindi che dà ai Comuni la possibilità di pagare le ditte che hanno effettuato i lavori pubblici e alle imprese l'opportunità di avere a disposizione liquidità fresca. Un fatto importante in un periodo di difficoltà di accesso al credito. In Brianza Seregno con 210.000 euro è il secondo Comune per quantità di risorse sbloccate dopo Monza, a cui la regione ha liberato fondi per quasi un milione e mezzo di euro. E continuiamo a parlare di economia. La crisi continua a mettere vittime tra le imprese in Italia. Tra il 2010 e il 2011 le aziende in difficoltà sono aumentate dello 0,3%. Ciò significa che tra fallimenti, liquidazioni e concordati preventivi sono oltre 120.000 le imprese italiane in difficoltà. Il 2,3% del totale, in pratica, una impresa su 50. Dal punto di vista territoriale è il centro-sud ad essere maggiormente colpito dalla crisi economica. In media, invece, è il dato Lombardo, 2,2%. Mentre a Monza e Brianza le imprese che devono fare i conti con fallimenti o liquidazioni sono l'1,9%. Parliamo di 1.250 imprese, 2 su 100. Un dato inferiore alla media regionale, ma in crescita del 4,6% negli ultimi due anni. India, Ucraina, Bolivia e Costa d'Avorio sono questi i paesi a cui sarà destinato un contributo economico di 27.000 euro che l'amministrazione mette a disposizione per sostenere i progetti di cooperazione internazionale. Il punteggio più alto, 361 punti, è stato assegnato all'associazione Auxilium per costruire nuovi spazi per una scuola elementare presso la periferia di Gora, in India. Il finanziamento è di 9.000 euro. Secondo posto con 356 punti per un gesto per loro, che con un contributo di 8.500 euro sosterrà un progetto per ristrutturare il reparto di neochirurgia pediatrica dell'ospedale di Kiev. Il terzo progetto finanziato è quello dell'associazione Carla Crippa, che ha ottenuto 6.197 euro per la sicurezza e alimentare dei bambini dell'Ogar dell'Esperanza, di Santa Cruz della Sierra, in Bolivia. L'Ogar è un centro che ospita bambini che altrimenti sarebbero costretti a vivere in carcere con i genitori. In questo modo, i piccoli possono ricevere istruzione scolastica e cure mediche adeguate. Infine, 3.400 euro per il gruppo Solidarietà Africa, per la costruzione delle strutture sanitarie di un villaggio nell'ovest della costa d'Avorio. È di 160.000 euro per la manutenzione ordinaria del cimitero principale e di quello di San Carlo la cifra prevista per il 2012 e per il 2013 dall'amministrazione per appaltare il servizio cimiteriale. I servizi comprendono l'apertura e la chiusura dei cimiteri, il controllo e la delle persone all'interno del cimitero al momento della chiusura, la pulizia dei percorsi pedonali e dei servizi igienici, la manutenzione del verde e la gestione del cestino dei rifiuti. L'appalto avverrà contrattativa privata. All'Azzaretto è invece in arrivo un nuovo sistema di illuminazione. L'amministrazione ha stanziato 20.000 euro per rifare l'illuminazione pubblica in Piazza Liberazione e in Via Vivaldi. Saranno 8 i pali della luce dotati di LED che nelle prossime settimane saranno collocati nelle due aree. Passiamo ora alla musica. È uscito il primo album degli Scans e i Mazzagain, una folk e rock band brianzola che unisce il dialetto a un sound modernissimo. Abbiamo sentito il leader della band, Daniele Scanziani. Siamo con Daniele Scanziani, leader del gruppo Scans e Mazzagain, all'esordio con il loro primo EP. Voi avete un sonorità rock, ma testi in lingua brianzola. Come nasce un po' l'idea di questo progetto? È un progetto nato tre anni fa, un po' per gioco, un po' per divertimento. Ci siamo trovati un gruppo di amici, abbiamo deciso un po' di mettere in musica dei testi in dialetto brianzolo. E così pian pianino è nato un progetto, tra l'altro adesso con il nuovo disco, con il nuovo EP, è nata anche una collaborazione con un produttore artistico, tra l'altro di Catania. Quindi voi presentate questo EP oltre che nei locali brianzoli, in giro per tutta l'Italia? Sì, esatto. Adesso giriamo un po' in questo periodo, siamo nei locali brianzoli, siamo appena tornati da Bari per la presentazione dell'EP. L'anno scorso, quest'estate, siamo andati in Sicilia per un contest, tra l'altro guadagnando il terzo posto. Quindi voi siete tutti ragazzi giovani, eppure il dialetto brianzolo lo conoscete molto bene. C'è qualcuno che vi aiuta un po' nella stesura sia linguistica che della narrazione dei vostri brani? Allora, i testi e le musiche le scrivo io, poi dopo le facciamo un attimino correggere, più che altro dal punto di vista della scrittura, da un concittadino, Enrico Sambruni, e tra l'altro nel CD c'è una piccola lirica che è stata scritta da Giuseppe Radice, che è un esperto di dialetto di Saronno. Quali sono i vostri gruppi di riferimento, i vostri cantanti a cui vi appoggiate, vi ispirate? Ma un po' tutti quelli, dato che siamo quattro ragazzi, giovani, abbiamo quattro ideologie diverse, ascoltiamo quattro tipi di musica diversa, passiamo dai Beatles a Jimi Hendrix, a cose un attimino più fresche, ma anche al Southern Rock, per cui spaziamo un po', non abbiamo un punto di riferimento, assorbiamo un po' da tutti i generi. Dalla musica rock alla musica classica. Un esempio nell'ambito dei progetti culturali a sostegno dei giovani talenti. Così l'assessore Vito Potenza ha spiegato la presenza del concorso Pozzoli a Risorse Comuni, il forum sulla pubblica amministrazione promosso da Anci Lombardia. L'assessore è intervenuto nel Palazzo delle Stelline a Milano sull'invito di COP Sussi, un programma comunitario formato da enti italiani e svizzeri che ha individuato il Pozzoli come un caso da studiare. Dal 2009 le parole d'ordini del Pozzoli sono state «Provocazione e innovazione», ha dichiarato potenza davanti ad amministratori e funzionari degli enti locali. Dalla scorsa edizione, il nostro obiettivo è stato quello di aprire il concorso agli altri mondi di musicali. Due anni fa abbiamo portato la musica, da quella classica al pop, nelle piazze del centro storico. Quest'anno, invece, abbiamo scommesso sui giovani. L'assessore, nella sua relazione, ha messo in evidenza i progetti portati avanti in questa edizione, come il Pozzoli Village, uno spazio dove i cittadini hanno avuto la possibilità di ascoltare musica di qualità, il progetto «Be Part of It», che ha coinvolto un centinaio di studenti, la partnership con due web radio, BM Radio e Young Radio, e infine il voto popolare. è Alberto Peruffo il nuovo presidente della Commissione Biblioteca. È stato eletto con cinque voti mercoledì scorso al posto del dimissionario Danilo Sandrini. Gli altri commissari sono Gabriella Beretta, Alessandra Bonizzoni, Fabio Paolo Costanza, Franco Formenti, Francesco Mandarano, Nicole Pellizzoni e Paola Pellizzoni. La Commissione Biblioteca rispone di una casella di posta elettronica commissione.biblioteca.info dove gli utenti possono indirizzare le loro idee, proposte e suggerimenti. Passiamo ora al calcio. La pregiore prestazione degli azzurri ha portato a una pesante sconfitta sul campo del pizzighettone, reduce da 12 risultati utili consecutivi, 4 a 1 risultato finale, in due anni di Serie D il Seregno non aveva mai perso con uno scarto così pesante. Vediamo ora il servizio di Walter Todaro. I ragazzi di Mister Sgro sul campo del pizzighettone partono col piede giusto. All'undicesimo trovano il vantaggio con un fortunoso destro di Andrea Zingari deviato da un difensore bianco-azzurro. Il Seregno però gioca solo nei primi 20 minuti e al trentunesimo Tacchinardi trova il pareggio con un bellissimo destro al volo del limite. Nel secondo tempo, dopo 7 minuti, il giovane Pantaleoni parte palla al piede da centro campo e con un gran tiro dal limite dell'area insacca il 2 a 1. E la partita per il Seregno finisce qui. Il pizzighettone nell'ultimo quarto d'ora dilaga con la doppietta di Mancuso, un gol facile sotto porta e un contropiede nato da un rimpallo fortunoso. Ora il Seregno è terzo ultimo con 14 punti e domenica pomeriggio al ferruccio arriva la prima della classe, lo Sterling Garda. Terminiamo con le previsioni per il fine settimana. E ne arriva una debole perturbazione atlantica proveniente dal nord-ovest. Per il weekend, quindi, si prevede cielo nuvoloso con parziali schiarite e possibilità di deboli piogge. Le temperature continueranno a rimanere sopra la media del periodo. Con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima. Arrivederci.